buonanotte a tutti e buon 25 aprile non vi canto bella ciao anche perché sono abbastanza stonato però vi voglio parlare questa sera questa sera di venerdì che dal 24 arriva al 25 aprile di un film che tra quelli che amo di più quindi in questa serie di make up movies è un po di serie che non ci vediamo non ci vediamo perché invece di fare queste dirette o dormo o mi sto svagando guardando robe improbabili però stasera vi volevo veramente parlare di un film molto importante che riso amaro di giuseppe de santis con silvana mangano notare le tette le tette di silvana mangano riso amaro è un film importantissimo e di cui vi voglio parlare proprio stasera perché è un film comunista ma non comunista così comunista così come si diceva una volta no vabbè giuseppe de santis è un regista che forse non ha la dovuta notorietà in italia che magari hanno fellini antonioni pasolini visconti eccetera però de santis è veramente un elemento particolare interessante nel cinema italiano che non si è mai più verificato veramente un uomo di cinema che sapeva come fare un film comunista così ma nello stesso tempo essere veramente hollywoodiano cioè per dirla come la direbbero i protagonisti di boris giuseppe de santis è un regista molto poco italiano molto poco riconoscibile come italiano e molto attento agli stilemi del noir e del melodramma hollywoodiano che riusciva a integrare in una narrazione diciamo anche sociale anche in particolare per esempio in questo film si parla di mondine la collettività delle lavoratrici un concetto di cinema anche molto sovietico se vogliamo però che lui riusciva in un cortocircuito incredibile a far a rendere un prodotto adatto al pubblico un prodotto che potesse essere goduto da un intellettuale come da uno spettatore comune e in effetti questo film vi faccio di nuovo rivedere le tette di silvana mangano ha lanciato incredibilmente quest'attrice che era il suo esordio anzi addirittura due dei protagonisti silvana mangano e raffa vallone vennero diciamo pubblicizzati come i due attori presi dalla strada oggi sono nomi che tutti conosciamo però allora erano appena esordienti mentre gli altri due protagonisti vittorio gasman e doris dowling americana erano già nomi abbastanza noti di che cosa parla riso amaro in questo questo titolo riso amaro bitter rice come è stato poi venduto in america è un titolo che è entrato ormai anche nei modi di dire italiani riso perché ci troviamo nel vercellese nelle risaie nella contesto del lavoro delle mondine amaro perché si tratta di una storia un po amara di un noir una storia criminosa che non ha un lieto fine com'è la storia allora ci sono due coppie walter e francesca che sono vittorio gasman e doris dowling e silvana e marco che sono appunto silvana mangano e raffa vallone come si intrecciano le storie di queste due coppie allora walter è un truffatore ladruncolo che convince francesca che una cameriera d'albergo mi pare a rubare una collana e a scappare con questa collana mentre francesca scappa si trova in mezzo a un treno che carica le mondine per andare a lavorare nelle risaie del vercellese si mescola a loro quindi praticamente va a lavorare con le mondine walter la raggiunge per praticamente prendere la collana e rivendersela ma nel frattempo silvana una delle mondine ha sgammato la situazione e ha rubato la collana a francesca silvana è una mondina un po sui generi se diventa il prototipo della ragazza del dopoguerra no procace tutta dedita alla lettura dei fumetti dei fotoromanzi ritaglia le foto delle attrici se li incolla balla il bugi bugi mastica chewing gum insomma un po tutto quello che facevano i giovani nell'immediato dopoguerra quindi cosa succede accortosi che silvana ha la collana walter cerca di sedurla in una delle scene più belle ballano il bugi bugi e nella serata di ballo delle mondine silvana un po ci crede intanto raffa vallone che interpreta un tenente un sergente un militare entra nel nel mondo delle mondine e cerca di fare la corte a francesca si rendono conto poi a un certo punto non ricordo sinceramente come che la collana è falsa e quindi walter mette gli occhi su un'altra cosa vuole rubare il carico di riso che le mondine hanno raccolto per rifarsi almeno della perdita dei soldi della collana e convince silvana ad aiutarlo in questo colpo che dovrebbe allagare le risaie distrarre tutti e praticamente consentirà walter di rubare tutto il carico di riso il problema è che poi insomma se ne accorgono ne segue una sparatoria walter viene ucciso e silvana praticamente rimane lì come una pera rendendosi conto che con il suo comportamento ha fottuto completamente il lavoro di tutte le sue compagne ha lasciato il discredito sulla categoria delle mondine diciamo vabbè una classica trama noir una classica storia di crimine ma con dei corpi attoriali molto interessanti in particolare diciamo la chimica più interessante tra gasman e la mangano quando ballano ma comunque interpretazioni degne di nota da parte di tutti vi faccio vedere il trailer che come tutti i trailer o il film è del 49 quindi neanche da dire che fosse un film degli anni 60 ma vi racconto tra poco le vicissitudini produttive ecco il trailer intanto gambe pantaloni corti pare un documentario sulle mondine ecco vedete già queste inquadrature sono molto reminiscenti di un certo cinema sovietico degli anni 40 e 50 ecco qui il treno delle mondine che arriva nella tenuta del vercellese ciao a tutti quelli che si stanno collegando vittorio gasman come vedete era giovanissimo e affascinantissimo doris dowling era reduce da film di billy wilder raff vallone era esordiente e silvana mangano anche stato il corpo attorno il quale è girato questo film questa è la scena del boogie boogie famosissima ciao ciao anche max oh questo film si trova anche tutto su youtube nel caso in galera raff vallone era i suoi esordi però aveva già lavorato in teatro vedete questi stilemi tipici del noir americano applicati a un film che parte dal neorealismo italiano per arrivare appunto a un racconto molto più spettacolare questo è veramente uno dei più bei film italiani del dopoguerra forse il migliore guardate i dettagli la forza interpretativa come sempre i trailer di quegli anni sono lunghissimi praticamente fanno vedere tutto il film però vi rendete conto un po di che cos'è lotta nel fango tra le mondine c'è da dire che quando a dell'aurentis fu proposto riso amaro lui ci intui subito la componente un po' erotica del film da bravo produttore spregiudicato qual'era praticamente diede il via al film quantomeno al budget del film e alla produzione proprio perché aveva intravisto in Silvana Mangano e nella storia comunque di mondina e quindi di ragazze che avevano sempre invariabilmente le cosce di fuori un potenziale grande successo di pubblico come poi in effetti fu abbiamo detto degli esordienti Silvana Mangano fu provinata per la parte subito presa e il film ruota tutto intorno a lei ruota intorno al suo seno ruota intorno alle sue cosce e De Santis disse o De Santis o Lizzani che comunque era l'aiuto regista e il partner di De Santis in questa operazione riso amaro che avrebbero girato con molte più inquadrature fisse ma praticamente il corpo di Silvana Mangano spingeva al carrello cioè tutte le volte che lei si muoveva decidevano di continuare a inquadrarla in carrellata per non perdersi neanche un ondeggiamento delle curve di Silvana Mangano e Raph Vallone invece è curioso il modo in cui è entrato nel film Raph Vallone in quel periodo Raph torinese doc ex calciatore amatoriale o semiprofessionale era passato a fare il giornalista all'unità all'unità di Laiolo che in quegli anni dirigeva il giornale e aveva appunto da poco fatto un servizio un articolo e un servizio fotografico sulle risaie del Vercellese sul lavoro delle Mondine perciò praticamente fece un po' da cicerone a De Santis e Lizzani che andavano a fare i sopralluoghi nelle location del Vercellese e a un certo punto data la competenza di Raph Vallone data comunque la sua presenza scenica il suo volto che bucava lo schermo De Santis decide di scrittularlo e gli scrive intorno la parte di questo ex militare Marco che è quello che nel trailer dice in galera comunque vabbè come vedete appunto è un film che ho scelto proprio per questa notte che ci porta il 25 aprile perché De Santis che era un regista comunista così anche se De Laurentiis che non era comunista affatto disse ma io comunque non l'ho trovato assolutamente un film ideologico né ideologizzato e ho dato carta bianca a De Santis non ho mai avuto problemi con lui in realtà è chiaro che la visione di De Santis è un po' critica nei confronti di quello che la cultura pop americana aveva portato nel giro di pochi anni dal 45 della liberazione al 49 in cui è stato girato il film un'ideologia di superficialità se vogliamo che lui in qualche modo accusava gli Stati Uniti di aver instillato nelle giovani generazioni di quelli che appunto erano appena usciti dalla guerra non pensavano ad altro che fumetti cioè Wingham e Boogie Woogie come Sylvana Mangano nel film altre cose interessanti di questo film sono per esempio che Robert Capa il famosissimo fotografo reporter di guerra che ha fatto un sacco di foto memorabili dal fronte della seconda guerra mondiale per esempio anche dello sbarco in Normandia era sul set con De Santis l'avevano invitato e ha fatto alcune foto di scena del film e l'altra curiosità secondo me fantastica geniale che non sapevo è che Giovanni Agnelli che non era un cazzo comunista ovviamente diede il Beneplacito a usare una sua fattoria modello del Vercellese le sue mondine e i suoi diciamo le sue maestranze tra virgolette insomma quelle agricole diede il Beneplacito a usarle nel film di De Santis e quindi praticamente a patto che non mi creiate problemi ovviamente come disse De Laurentiis il film non è immediatamente riconoscibile come un film ideologicamente comunista però comunque qualche problema la troupe di De Santis gliel'ha creata a Dannelli perché comunque girare un film con tutte le comparse tutte le luci tutti i cavi le maestranze del film eccetera messe in una fattoria dove c'era già un casino di gente che lavorava per i fatti suoi sicuramente non è stato facile però sappiamo che Agnelli più volte è andato a visitare il set più che altro perché piacendogli un po' il genere Mondina e piacendogli soprattutto il genere Silvana Mangano che vorrei farvi rivedere perché è sempre molto importante poter vedere le tette di Silvana Mangano e diciamo che Agnelli comunque qualche salto nel film nelle location del film se l'è fatta e niente quindi in questa notte ripeto che ci porta il 25 aprile volevo parlarvi di un film che fosse comunista spettacolare poco italiano nel senso in cui si dice poco italiano in Boris e che secondo me è assolutamente da vedere fatevi un regalo guardatelo domani stesso lo trovate anche su YouTube almeno così mi sembra di aver visto e non lo so se se l'è fatta però se non ricordo male il pettegules comunque la Mangano dopo questo film è diventata moglie di De Laurenti un attimo che cerco Silvana Mangano Italian actress coniugedino De Laurenti infatti De Laurenti è stato più veloce a prendere il frutto proibito quindi che altro dirvi ah beh un'altra curiosità del film ad esempio è che ovviamente De Santis e Lizzani che era il suo partner in sceneggiatura e comunque in aiuto regia passarono moltissimo tempo qui a Torino proprio a lavorare alla sceneggiatura e a consultarsi con diverse persone tra cui a quanto pare Cesare Pavese dal quale presero moltissimi spunti si fecero un sacco di chiacchierate sotto i portici poi ovviamente Raffallone insomma tutta la compagnia cantante è un film quindi importante anche per chi studia il cinema Torino e per chi ama la mia città su questo non saprei più che cos'altro dirvi se non buon 25 aprile resistete ancora fino alla fine del lockdown non aspettatevi troppo perché tanto non so cosa potremmo fare più di quello che facciamo adesso e ciao a tutti buonanotte grazie